ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video del format calcio vintage oggi è il 29 maggio ed è per noi juventini una data particolare una data da ricordare tra l'altro ricorre giusto il 39esimo anno di quello che è stata una tragedia immane una tragedia assurda che non ha senso siamo il 29 maggio del 1985 sto parlando della strage dell'eissel 39 39 è il numero simbolo di questa tragedia 39 sono state le vittime di questa purtroppo manifestazione che si è trasformata da quello che era un evento sportivo in una carneficina voglio con questo mio video rendere omaggio nel mio piccolo a quelle che sono state le vittime di quella strage che non solo hanno perso la vita in quell'occasione ma spesso anche oggi la loro memoria viene infancata costantemente da idioti decelebrati che inneggiano ad altre situazioni simili o che ostentano dei simboli che inneggiano a questa situazione come se fosse appunto una situazione piacevole che vale la pena ricordare invece va sì ricordata ma con un sentimento diametralmente opposto in segno di rispetto innanzitutto e affinché questo tipo di tragedie non avvengono mai più e qui non c'entra la tifoseria la maglia la fede di appartenenza per intenderci c'entra solo quello che ne rimane dell'intelligenza umana siamo quindi nel 1985 la coppa campione di gran lunga il titolo più importante del calcio a livello di club poiché è una competizione che allora vedeva impegnati i soli vincitori delle proprie federazioni e quindi un premio buona sostanza ai vincitori dei vincitori le due squadre che erano riuscite in qualche modo a giocarsi questa finale quindi questo trofeo aveva una storia diversa il liverpool aveva già vinto in passato questa competizione mentre noi non avevamo ancora avuto questo onore la coppa dei campioni è il trofeo più importante che può vincere una squadra di club il liverpool l'ha vinta in diverse occasioni la juventus invece fino al 1985 non l'ha mai vinta abbiamo vinto due o tre volte la coppa aveva la coppa delle coppe però quella ci mancava nel nostro nella nostra vita di società insomma nel nostro curriculum sportivo della società di juventus ma come in un libro giallo andiamo a capire quali erano i protagonisti di questa tragedia innanzitutto gli hooligans sono dei gruppi di tifosi organizzati ed è frequentemente associato al calcio ed in passato a definire i tifosi violenti protagonisti di tafferugli al seguito di una squadra il fenomeno degli hooligans è diffuso soprattutto in nazioni come l'inghilterra la scozia e l'irlanda ma anche in altri paesi il termine hooligan deriverebbe da hooligan cioè il nome di una famiglia irlandese di pessima reputazione cerca di combattere la violenza degli hooligans scene come questa comunque si ripetono in continuazione anche se ci sono le telecamere che dall'alto possono spiare e identificare i teppisti lanci di sassi assalti sul prato scontri con i tifosi rivali ormai sono scene consuete e vedere i bobby a piedi e senza armi oppure a cavallo oppure con i loro cani che cercano di fronteggiare queste orde sanguinarie fa quasi sorridere lo stadio dell'heisel lo stadio dell'heisel fu costruito tra il 1929 il 1930 ed è stato per anni il cuore di eventi sportivi e culturali della città di bruxelles nonostante in passato avesse ospitato diverse finali europee le condizioni dello stadio erano a dir poco fatiscenti addirittura per capire come era messo male lo stadio alcuni tifosi sprovvisti di biglietto erano riusciti ad entrare ugualmente allo stadio scavalcando un muro che presentava diverse crepe fornendo così dei facili appigli per poterlo scavalcare e ancora oggi a distanza di 39 anni non si capisce come mai l'uefa decise di far disputare quella partita in un stadio che faticava a reggersi in piedi questa vernice che continuano a tendere poche ore prima delle partite importanti non cancella la realtà questo stadio vecchio di 60 anni continua ad essere insicuro e pericoloso guardate come sono conciati i muri esterni del settore opposto alla curva z come sono storti logori e fragili il cemento è marcio è facile ricavare cubetti mattoni e altri tipi di proietti non hanno avuto nemmeno il pudore di cancellare un segno imbarazzante questo è il cantiere abbandonato dietro la curva z dove gli hooligans andavano a rifornirsi gli strumenti di morte quella sera i tifosi della juve i tifosi della juve si trovavano principalmente nei settori o n ed m dello stadio mentre i tifosi del liverpool nei settori y e x posti sull'altro lato dello stadio e divisi dalle tribune che erano neutrali così come del settore z che aveva delle transenne che servivano a poco e quindi non congeniali per l'evento in sé tra l'altro addirittura si è scoperto successivamente che a controllare il settore z c'erano solo cinque agenti nonostante il settore z confinava con i settori x e y dove c'erano gli hooligans ovvero la frangia più violenta del tipo inglese lo stadio quindi era assolutamente inadatto per poter ospitare un evento di questa portata anche perché aveva una situazione strutturale decisamente compromessa e anche a causa del bagarinaggio folle del fatto che la polizia belga risultò del tutto impreparata all'eventa si calcolò che entrarono ben 10.000 persone in più rispetto a quanti ne potesse contenere lo stadio questo poi contribuì ad aggravare ulteriormente la situazione ma gli scontri cominciarono già ben prima di quello che era all'inizio della partita infatti un'ora prima gli inglesi cominciarono la carica verso il settore z sparando anche dei razzi ad altezza uomo gli hooligans quindi cominciarono a mettere in atto uno dei loro capisaldi della loro cultura ribattezzato take the end ovvero il tentativo di occupare il settore avversario mettendo in fuga la tifoseria nemica anche se ancora oggi ci sono delle versioni contrastanti in quanto alcuni tifosi inglesi dicono di essere stati provocati dai tifosi della juventus terry wilson ha sempre sostenuto di essere stato provocato dai tifosi italiani anche a distanza di tutti questi anni rimane questa la sua unica verità nessuno di noi ha cercato guai era stato tutto fantastico mentre stavamo cantando però ci siamo resi conto di quanto stava accadendo nel settore z c'era un ragazzino con la maglia del liverpool tra gli otto e i dodici anni abbiamo visto venire schiacciato dai tifosi italiani allora ci infuriamo cosa stava succedendo chi si stava scontrando e perché a quel punto la nostra prima reazione è stata di abbattere la recensione e correre in aiuto dei nostri tifosi una delle due o rimanevamo lì lasciando che gli italiani malmenassero i tifosi del liverpool oppure correvamo ad aiutarli verosimilmente invece questo atteggiamento fu una sorta di vendetta degli inglesi poiché l'anno prima nella finale di coppa campioni tra roma e lvi liverpool giocata nella capitale ci furono dei duri scontri tra le tifoserie rivali e probabilmente agirono in tal senso credendo di ritrovarsi dei gruppi organizzati così come fecero allora invece si trovarono di fronte a dei non dei gruppi organizzati ma dei semplicissimi tifosi che anzi non reagirono alle provocazioni e tentarono di scappare verso quelle che erano le uniche fughe possibili ovvero verso l'alto oppure verso il basso in corrispondenza del terreno di gioco alcuni tifosi quindi riuscirono a salvarsi e a fuggire soprattutto coloro che erano alle nelle zone perimetrali del settore z mentre purtroppo coloro che erano nella zona centrale furono quelli più in pericolo e subirono gli attacchi degli hooligans che vennero quindi picchiati con ogni mezzo a disposizione quindi con mazze con pietre e bottiglie la polizia intervenne addirittura con mezz'ora di ritardo e in un primo momento usò i manganelli e picchiò i tifosi della juventus che tentavano in qualche modo di scappare dal settore z verso i cancelli di sicurezza non capendo cosa stava succedendo realmente e il perché quella massa di tifosi sembrava appunto impazzita pensando che volessero solo invadere il terreno di gioco chi fugge verso il basso deve fare i conti con l'assoluta impreparazione della polizia soltanto dopo alcuni tragici e fatali minuti gli agenti capiscono che i tifosi compressi non cercano l'invasione di campo ma la sopravvivenza e si decidono a rimuovere i catenacci dei cancelli nel caos più agghiacciante qualche poliziotto in alto a destra sui vostri teleschermi usa persino il manganello nei confronti di chi cerca disperatamente la fuga e di fronte a questa scena vi chiediamo soltanto di valutare pietosamente lo stato di totale anarchia nel quale agivano le forze dell'ordine gli hooligans scaricarono ad ondate intimorendo i tifosi di questo settore spingendoli a retrocedere verso il muro opposto ci fu addirittura chi si lanciò del vuoto per evitare di rimanere schiacciato da quello che era uno tsunami umano erano le 19 e 15 e questa spinta anomala e le forti pressioni fecero crollare il muro dello stadio che era già faticente di suo e molte persone purtroppo rimasero sotto le macerie alcuni addirittura vennero calpestati dalla folla risultato 39 morti e oltre 600 feriti questo fu il drammatico epilogo di questa immane tragedia per assurdo il crollo del muro ha salvato anche alcune vite poiché ha concesso quindi una via di fuga a coloro che erano nel mezzo della folla viceversa purtroppo ha rappresentato la triste e macabra fine per quelli che sfortunatamente sono stati schiacciati dalla struttura stessa e da coloro che sono stati schiacciati calpestati da una mandria impazzita in scene di panico e di puro terrore presi dal panico un gran numero di italiani si ammassano nell'angolo più lontano e più basso del settore z contro il muro uno sull'altro armando danilo guido e domenico si trovano nel mezzo di questo caos ancora non si rendono conto del pericolo che stanno correndo ma ormai la situazione sta per precipitare dopo due minuti dello schiacciamento mi sono sentito scivolare uno scarpe da ginastica lo sentite scivolare del piedi ma c'è un vuoto come che mi sono accorto che restato a piedi nudi con i piedi non toccavo più neanche per terra alle 19 31 minuti e 20 secondi i servizi di emergenza registrano per la prima volta la notizia è crollato un uomo in giallo che cerca di fare del suo meglio per aiutare è un tifoso del liverpool l'uomo non ha voluto essere intervistato i ricordi per lui sono troppo doloroso all'estremità del settore z un muro è crollato sotto la pressione dei tifosi presi dal palco ma non è stata questa la causa principale delle morti al contrario il crollo ha consentito di scappare ai tifosi rimasti intrappolati ma non a quelli rimasti schiacciati sotto gli altri i morti quindi alla fine furono 39 ma la partita avrebbe dovuto essere sospesa anche se fossero stati molti molti meno perché non era più un evento di calcio ma una brutale carneficina la juventus come raccontò il presidente boniperti non voleva assolutamente giocare a discapito di quello che si dice ancora oggi così fece anche il liverpool ma furono obbligati dall'uefa e della stessa autorità belga che temevano che l'effetto rinuncia avrebbe spinto gli hooligans a fare le altre cariche in altri settori la partita invece come sappiamo si giocò ugualmente come racconterà poi l'allora presidente bianconero boniperti la juventus non voleva giocare il liverpool neppure ci obbligarono l'uefa e le autorità belghe temevano che l'effetto rinuncia avrebbe spinto alla rivolta gli altri settori i giocatori dal canto loro non avevano ben capito cosa era successo né tanto meno le proporzioni del disastro questa fu la testimonianza di trapattoni e di tardelli che allora erano allenatore e giocatore della juventus non posso dire genocidio perché fu veramente un massacro di persone morte poi e giocando lo sappiamo dopo essere rientrati in albergo dopo essere entrati in albergo che ci furono veramente tanti morti per noi la partita fu vera e fu giocata vera perché nonostante tutto noi due squadre che ci siamo confrontati l'abbiamo giocata vera la partita proprio perché non sapevamo neanche di tutto ciò che era successo poi dei deceduti ci hanno detto di la cosa che ci dicevano è di stare concentrati perché la partita sicuramente sarà giocata e noi dovevamo stare attenti però sapevamo che c'erano dei problemi non questo non c'erano dei morti no a quell'ora voglio dire a quell'ora non lo sapevamo si era parlato di un morto due ma non non di questa tragedia tutto accadde tra l'altro in in diretta televisiva ed erano collegate ben oltre 60 paesi addirittura un emittente austriaca in segno di protesta perché appunto si decise poi di giocare interruppe la telecronaca mandando in sovra impressione la scritta questa che stiamo trasmettendo non è una manifestazione sportiva ma una trasmissione volta ad evitare massacri dopo i tristi fatti dell'eisle squadre inglesi vennero escluse dalle competizioni internazionali dall'uefa su richiesta dello stesso governo britannico a loro presieduto da margaret thatcher 25 hooligans finirono sotto processo insieme al capo della federcalcio belga e due responsabili dell'ordine pubblico il processo poi si concluse con brevi condanne la condanna a 14 hooligans mentre l'uefa e lo stato belgo furono condannati a risarcire la famiglia delle vittime il 28 aprile dello scorso anno è terminato a bruxelles il processo di primo grado che avrebbe dovuto punire i responsabili della tragedia questa la sentenza quanto riguarda gli hooligans 14 dei 25 tessisti inglesi rinviati a giudizio sono stati condannati a tre anni con la condizionale sono quindi tornati in libertà insieme agli 11 tessisti riconosciuti non colpevoli il capitano della gendarmeria belga johan maille responsabile della sicurezza sul campo la sera della strage è stato condannato a soli nove mesi anche lui con la condizione solto invece il suo superiore il maggiore michel kensier che coordinava le operazioni dal suo ufficio condannato a sei mesi con la compensione condizionale della pena il segretario dell'unione calcio belga albert rosen ma la federcalcio belga è stata dichiarata responsabile civilmente degli incidenti assolta l'uefa nelle persone del presidente jacques george e del segretario generale hans margherter assolto il comune di bruxelles nelle persone del sindaco erve brujan e dell'assessore allo sport signora viviane barro la magistratura belga ha quindi considerato colpevoli a vario titolo di gradi negligenze il capitano della gendarmeria e il segretario dell'unione calcio belga su richiesta dello stesso governo britannico presieduto da margaret thatcher di liverpool e gli altri club inglesi vengono esclusi dalle competizioni internazionali a tempo indeterminato lo stato del laser venne successivamente abbattute dalle sue cene risorse nel 1994 un nuovo impianto e del vecchio stadio oggi non è rimasto più nulla spesso nel gergo dello spettacolo si dice che quando cade l'acrobata entrano in scene clown ed è uno del titolo dei tanti libri che parla di questa assurda strage e difatti in quella triste sera di maggio andò in scena un vero e proprio circo dell'orrore che chi di dovere non ha avuto il coraggio di fermare e il calcio in quel bagno di sangue perse per sempre la sua innocenza trasformandosi in uno spettacolo che non guarda in faccia nemmeno alla morte eppure nelle avvisaglie c'erano già state come una strage gemella avvenuto solo i 18 giorni prima in quello che fu definito il disasso di breadford avvenuto in inghilterra che costò la vita a 56 persone e ci furono anche 256 feriti in quel contesto però il fattore che spinse al panico la folla non fu la carica degli hooligans ma un incendio in un settore dello stadio che quindi provocò un'ondata non controllata di tifosi impauriti quella partita quindi non rappresenta una vergogna solo sportiva ma di tutto il genere umano è una vergogna che nonostante tutto non va assolutamente dimenticata affinché fatti del genere non si ripetano mai più e proprio per un sentimento di rispetto e devozione verso chi ha perso la vita pensando di andare incontro ad un evento sportivo alla gioiosità di quello che potrebbe rappresentare una partita di calcio ed invece ha dovuto fare i conti con un tragico destino chi inneggia ancora oggi a quella tragedia chi gira con quell'irritante meno 39 dovrebbe solo ed esclusivamente vergognarsi perché anche se temporalmente impossibile ne risulta in qualche modo complice andrebbe perseguito dall'autorità competenti mi infila e poi in mezzo delle persone trovai questo gruppo di potenza con tutto ciò in mano mi arrivò una pietra in testa che fortunatamente non mi colpì alla tempia dopodiché non capito niente perché gli inglesi sfondarono le recinzioni che dividevano il loro settore dalla curva z ma erano recinzioni per modo di dire perché erano veramente reti di pollaio e ci schiacciarono contro perché ovviamente nella curva z non c'erano gli ultra juventini ci fu un tentativo di invadere questa la parte diciamo della curva z da parte di un tifoso mi ricordo questo tifoso gli andò incontro l'unico poliziotto che era all'interno dello stadio al quale il tifoso inglese torse il manganello e lo percorse col manganello questo poliziotto scappò da lì probabilmente gli inglesi si resero conto che non esisteva assolutamente nessun tipo di controllo ruppero la rete invasero il settore z la polizia non esisteva nel settore erano cinque poliziotti a fare di attimi io mi ricordo che avevo per mano la mia figliola e la lasciai perché senti che mi erano salita addosso la gente mi stava calpestando e allora se no la tiro giù con me la lasciai e da quel momento lì io come viso in terra 20 secondi 30 forse ma anche meno persi conoscenza mi riprendo mi rialzo ero coperto con un plaid mi ciro intorno vedo tutte distesi tante persone a quel punto lì pensai c'è anche la mia figliola che mi dice guardare guardare ma non la vedi ritornai verso la curva su e vennero anche i carabinieri della polizia a cavallo che mi dettero anche in affistata perché andavo su io trovai della gente che conoscevo e dico mica visto la mia figliola dice no non ho visto nessuno allora ritorno giù tra i morti e a quel punto vedi una scalpa che usciva da un plaid e sapevo che c'era lì perché erano le scarpettine bianche e blusi che si vedevano bene da quel momento ma accorsi che lei provare l'animale ma non ci fu niente da fare queste sono solo alcune delle testimonianze dei presenti oppure di chi ha perso un amico un familiare in questa assurda tragedia quello di cui onestamente non vado molto fiero sono stati i festeggiamenti dei nostri giocatori che anche se hanno detto che non sapevano qual era l'entità nelle gravità della dell'intera faccenda quindi si parlava di un morto mare qualcosina in più non avrebbero dovuto festeggiare così con la coppa lì proprio dove c'erano stati poche ore prima dei morti e tanti tanti feriti anche se alcuni di quei giocatori che hanno festeggiato quel trofeo vinto poi negli anni si sono pentiti hanno chiesto anche scusa 25 anni fa forse sì adesso non è 25 di più e vedendo questi filmati non dovevamo farlo non dovevamo farlo l'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa ma ve l'avevano chiesto no e i tifosi non è che ce l'avessero chiesto però noi dirigenti non ci avevamo chiesto niente i tifosi ci avevano chiamato sotto la curva e ci siamo andati e in quel momento probabilmente sembrava giusto festeggiare anche se sinceramente noi non sapevamo il grande la grande tragedia il livello proprio il livello della tragedia ma in questo momento chiedo scusa né tanto meno quello che sono stati i festeggiamenti nei giorni successivi dei nostri tifosi che con caroselli nella città di torino hanno festeggiato quello che è un trofeo che si trova sì nella nostra bacheca ma onestamente non è che ci si può bantare più di tanto negli anni a seguire ci furono altre occasioni che videro la squadra inglese quindi il liverpool e la juventus fronteggiarsi in campo europeo come il 5 aprile del 2005 quarti di finale di champions league in terra inglese in quel contesto due simboli due uomini simbolo della juventus e del liverpool quindi michelle platini che tra l'altro era presente in quella partita e a jan rush simbolo del liverpool che poi tra l'altro anche un passato non fortunato nella nostra squadra portarono insieme quello che fu una targa commemorativa per andare a commemorare quella vicenda e rendere omaggio ai 39 morti nello stesso contesto i tifosi inglesi cercarono in qualche modo di scusarsi dicendosi dispiaciuti con dei testriscioni o quant'altro mentre la curva invece bianconera rimane ostile girandosi di schiena a quelli che sono stati gli attestati appunto dei tifosi inglesi non è sicuramente stata una reazione incomiabile da parte dei nostri però devo essere sincero meglio così piuttosto che una reazione violenta è stata fin in fin dei conti una protesta pacifica perché possono anche passare tanti anni da quella triste serata però il ricordo soprattutto per i familiari che hanno visto appunto un loro fratello un loro amico un loro parente un loro conoscente perdere la vita rimane vivo nei loro ricordi detto questo io vi ringrazio vi saluto spero che abbiate apprezzato questo mio modo di poter omaggiare quelle 39 vittime di questa assurda tragedia che non ha colori non ha fede sportiva si tratta purtroppo di 39 persone che hanno perso la vittima e tra loro c'era anche un bambino di 10 anni penso di aver detto tutto è un ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto vedere questo mio contenuto like se vi sarà piaciuto il video commenti giù avete la possibilità di dirmi la vostra e ancora un sentito veramente ricordo verso queste 39 persone che purtroppo non ci sono più grazie ancora e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti